e insomma buongiorno insomma buongiorno di 18 no 19 mai sono vecchiato martedì allora ieri mi è successa una cosa bella mentre parlo con te mi da una sistemata al capello oggi vado un'altra volta con questa qui oh se vede vado con questa e niente che mi è successo? ieri in tanti mi avete fatto la voi tanti e vi ringrazio e io come cosa mia cerco di rispondere il più possibile no? e ringraziare più che altro oh ieri sai facebook mi ha bloccato mi ha bloccato mi ha proprio bloccato quindi non potevo più rispondere potevo mettere soltanto mi piace e basta che poi pensa quando mi hanno bloccato c'è scritto che avevo messo troppi mi piace no? però mi piace lo potevo mettere ma il commento no? no te c'è capito qualcosa? io non ma vabbè dai comunque grazie a tutti quanti ragazzi grazie 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 mille degli auguri quindi ormai me sono vecchiato il gioco è fatto il dedo del tratto e e vabbè che è? no questo devo lo dire quindi mi sono vecchiato e... io non mi sento però c'è chi me ne dà di più chi me ne dà il giusto che... vabbè macello c'è si capisce niente poi ieri mentre registravo mi ha chiamato di madre per te la farà risposta da solo un casino un delirio guarda un delirio proprio comunque vabbè va bene così poi c'è stato uno ieri mi ha scritto mi ha lasciato un commento sul video di ieri valla a vedere cioè a sotto zero che c'ha i pinguini dentro c'ha tracce dei pinguini eh sì perché mi faccia la barba col pinguino anzi io vi ho il cane mi è merato col cane vabbè senti stamattina voglio fare una sbarbata diciamo non minimale però minimale no perché stanno tante cose però una diversa allora stamattina userò questa coppettina qui che mi è stata data dalla focus non è una coppetta del cinese questa niente a che dichi c'è la coppetta che ce l'ho pure io poi ho arrivato ad utilizzare pensa un po' lo sciavetto si mi sfregge bene bene questo qui della sempre della focus questo qua vedi carino guarda che carino e logicamente oggi rapira è una crepa che da tanto che non utilizzo ma oggi sta bene con la temperatura che c'è fuori la man rock è questa qui al muschio muschio di quercia che questa per me è favolosa spettacolare poi pennello per porco che puzza no però a me piacere un lato questa puzza allora non mi piace ho comprato un uovo vedi vedi omega ha per primo lavaggio questa cosa non mi piace però va bene uguale poi come pre barba utilizzerò l'olio di mandorle eccolo poi dopo la rasatura utilizzerò un po' di anche se non è proprio indicato per viso però il burro corpo nutriente carité olio d'argan e poi per finire tutto quanto ci mettiamo tu mi stai a chiedere qual è il river ma sai come te lo dico perchè ho il letto qua dietro eheheh e vabbè dai allora iniziamo va iniziamo eh sì iniziamo iniziamo allora tanto mi sono fatta la doccia ma al solito mamma mia poi mando un saluto a Andrea che sa dall'altra parte del mondo e che a me che ogni tanto mi guarda e dice che gli faccio ricordare un pochetto sto paese sto paese si, bello però insomma mi fa piacere che ti porto un pezzo d'Italia lì dove stai qui altro è un pezzo di Roma sta paolo che è leggermente grande rispetto a me sta un po' stile tunica da sacerdote allora intanto vado a mettere un po' d'olio di mandorle spinguto da freddo targato extra anche se questo sarebbe più indicato per un dopo mandorlato ok ma perché tanto mi vedrai io sciavette mi squarto io mi squarto sempre mi importa che l'utilizzo vendrà male quindi aspetta cerco di massaggiarmi un pochino il viso ma sciaccia che c'ho eh eh non lo dicevo ah ok bene ah poi un'altra cosa ti aggiungo portato il motorino al meccanico no che mi faceva di qua e di là e allora quello è normale perché lo scarabello culo vecchio fa così vabbè mi fermo perché sento mentre caccello lo sento fa 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 cacchio tubo sfiato qualcosa se stavo a staccare il motore mi stava a perdere il motore che la rotate dietro vabbè ora si è aggiornato pure su questo che è questo cosa aspetta fammi vedere qualche notizia vediamo se facebook mi ha sbloccato dobbiamo ambire codone a questa perché sento che brucicchia mamma mia non si può fare una foto con la tutina mamma mia ho esagerato io non si può guarda ieri ho fatto ieri un'amica mi ha regalato sta tutina qua sembra il monnezza però facciamo saccasmo così inutile che che serve ma non me la soppia sto giocando allora guarda Marrock guarda com'è se non l'hai mai vista prima non l'hai mai provata io questa te la consiglio te la consiglio perché a parte che è molto morbida sono vediamo un po' 100 grammi a me il profumo piace ho tutte e tre profumazioni infatti queste sono di spolvero con l'estate perché con l'estate fanno il loro lavoro allora questa funziona così tu intingi un pochino perché è proprio veramente morbida guarda vedi com'è aspetta cerco di fare un po' d'ombra vedi così eccola qua guarda ho preso sta quantità qui andiamo a vedere con questa ciotola qui che succede è tosta quando monti con queste cotette piccole è tosta proprio acqua domani li ritrovate sotto zero guarda te lo dico prima domani li ritrovate sotto zero ragazzi seguite il mio consiglio chi ha preso sotto zero e gli sta arrivando date retta a Luca usate un pre barba che sia a base mentolata non ve ne pentirete fidatevi una cosa impressionante quello che fa sto pennello col caldo non si è aperto è rimasto come uno stucco è rimasto dritto è rimasto come un pennello di quelli proprio via mi lasciamo il pennello pepita a casa aspetta io ci sto a provare niente mi rimane così cioè allora ragazzi montaggio fatto così può essere bello da professionista quanto ti pare ma non è una cosa secondo me fattibile cioè non godi non gusti necette rimane non sacchiappone così e che ce fai? che ce ti fa così? anche questa crema te c'è io lavoravo il pennello dritto così sembra che gli hanno messo l'elastico e l'hanno chiuso non si apre tutto così non sfrutti bene il pennello secondo me no non mi garba troppo piccolo cioè lavorano solo le punte ma no faccio prima così anche perché non rende l'idea di quanto monta questa aspetta io da un'altra la vanillata vedi un'altra ecco 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 c'è qua c'è però è troppo piccolo secondo me non lo sfrutto bene aspetta e cambia la lametta allora questo vedi come si fa c'è una stritta guarda si stacca tutto aspetta vado a cambiare la lama va a spezzare una ravira una ravira black ah raga e quando usate lo sciavetto no perché una volta ho visto un po' stato uno che faceva la ride c'è una messa sana che c'è anche lo sciavetto che ce la può mettere sana però in teoria questa va spezzata così sentito ho fatto track spezzata in due e ti prende una metà una volta che hai preso una metà la posizioni tranquillamente dentro questo è il supporto fatto abbastanza bene ecco chi è e i rinnesti a baionetta eccolo vedi olè è pronto dai vediamo forza beh ravira non si smentisce mi raccomando non fate una pressione a questi questi rasoio qui di come scivola con una la metà la posizionetta deve essere buona e se compri la metà c'è la prima passata la seconda già tutto è ridata so low se non fai pressione vai liscio come l'olio no ma al 48 non perdi così pura setola per pelè di maiale pura setola ecco 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 va qua me posso faccio ragazzino e allora e andiamo da seconda è confortevole sto rasoio già l'avevo fatto l'avevo recensito l'altra volta tra virgolette recensito, provato perché se non avevo da voce recensisci pure mi sta in attimo a perdere i colpi man mi sta a perdere i colpi aspetta via no, guarda, perde il montaggio così perde a parte, vabbè, acqua perché il secondo passaggio sempre vi conviene un po' più accuso che morrava tutto oh no, guarda, perché è vero ok ffff ok no, guarda ok no, guarda ok ok questa non è solo radersi, questa è cultura ma che è la polvere? non provi ma è sti rapirato spettacolari non provi non si sentono proprio non si sentono proprio non si sentono proprio ok il rasoio è ben bilanciato invece farei un pensierino guarda è figo è tattico guarda il colore che c'ha aspetta te levo un po' di luce la luce se la deve avere perché se levo questa non si vede niente quindi e devo lasciarla 48 troppo grosso per far solivo la data di lavoro mi sento proprio una quersia aspetta ve lo vedete fa una cosa aspetta una cosa piccola basetta ok ok mano leggera e ti fai tutto quello che vuoi senza nessun problema ce la deve in paura vedi pure io dico sempre che mi taglio oggi non mi sono tagliato giusta la metta ottimo rasoio va bene si comporta bene e io con sta mezza rapira la lascio qua dentro quindi la andrò a utilizzare ah poi sempre ringrazio la la focus che mi ha dato mi ha dato la possibilità di provarlo di testarlo ecco qua aspetta che c'ho 8 punti in questa parte non mi sarebbe mai bene lo sai questa qua qua quelli di qua io se la facessi a qualcuno la barba andrei molto 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 dentro perché deve essere il momento di piacere di corsa allora quindi dopo questo passaggio non sono irritato perché le rapira io fortunatamente le riesco a sopportare benissimo prendo un po' di burro de karité io ce lo metto non lo fa ma sai questi ragazzini come si stanno a divertire qua ci andavo pure a scuola li andavo pure io in questo periodo qua ci portano a prendere gelato quando facciamo il pomeriggio però ok qui di fatto facciamo un attimo asciugare il il burro eccolo qua a posto e adesso posso mettere pure l'after shave a posto fatto quindi sbarbata finita sbarbata tra virgolette l'ho chiamata minimale ma non c'è niente di minimale anzi è completa dove trovi tutto quello che ti serve e con il quale ti ciò può trattare bene l'oglio di mandorle ha fatto il lavoro suo e non sapevo di niente aspetta lo metto qui che se negate poi qualcuno te la magna vivo ok anzi anzi te dirò vabbè questa poi la facciamo ti avevo fatto vedere pure quella col borotarco pure quella col borotarco non è male come come rasatura amen rock eccola qua io questa te la consiglio però il montaggio te la consiglio esclusivamente in ciotola grande no quella piccola la piccola troppo riduttiva troppo riduttiva metto qui anche il denim che è buono questa è una piccola spesa ti sei portata a casa strumenti che è fatta una barba come Cristo comando io sto perfetto bello sarà quella per corpo col borotarco ma io mi ce lo trovo bene che te lo devo fare ah eccola qua aspetta che metto sono tre ore che vedo una vabbè aspetta tu stai adesso aspetta scusami vabbè stamattina c'è le visioni lasciate non c'è più posto non c'è più posto se te capita compratele queste qua sono meravigliose estremamente sono buonissime io ho fatti molto le devo ricomprare perché mi stanno affinito sono rimasto con un pacchetto mi hanno svuotato completamente tutti quanti e niente quindi io ringrazio tutti quanti nuovamente per gli auguri che mi avete fatto ieri vi ringrazio siete stati molto 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 gentili grazie mille aspetta non le la metti me le metto tutte a quest'altra parte così almeno ce le ho tutte con le nuove aspetta e quindi grazie a tutti quanti per gli auguri grazie ai commenti che lasciate tranne quelli che fanno ride in modo triste eccoci qua quindi sono pronto vi lascio un po' respirarsi i baffetti anzi devo fare una cosa che mi hanno spiegato ha spiegato Paolo barbiere di Torino a posto così respiro un pochino quindi se beccavo domani grazie per la visione io ho ciotola piccola non lo so se invece trovate bene utilizzate io ho un po' scomodo non male invece trovo scomodo perché non riesco a sfruttare il ciuffone del 48 avevi il 48 e avevi una ciotola microscopica secondo me non c'ha senso cioè come avevi l'attributo tuo gigante non poterlo mettere proprio come se deve in posizione quindi non c'ha senso secondo me però vabbè so gusti non discuti i gusti personali delle persone assolutamente però a me piace più sfruttare lì sulla ciotola ciotola montaggio ce lavoro meglio c'ho più divertimento ciao se beccamo domani ciao ciao